Riciclare conviene! Porta i cartoni Tetra Pak alla Galleria Commerciale Aurelie Antica e avrai uno sconto sulla tua spesa nel Conad Superstore. Basta inserire i contenitori svuotati nella macchina che trovi vicino alle casse. E ricorda, la raccolta differenziata conviene a te e all'ambiente. Campagna promossa da Conad, Tetra Pak a Comune di Grosseto, Sei Toscana e Galleria Aurelie Antica. Per lo sconto, info alle casse e su www.tiriciclo.it. Iniziativa valida dal 9 aprile al 31 maggio 2015. Grazie per la visione! Grazie per la visione!